bentornati sui vansat channel questa volta vi voglio fare vedere un analizzatore as 1 sempre costruito da me non più nero colore alluminio dimensione standard però senza le alette per il contenitore rec let stavolta sono rossi anziché verdi per contrastare appunto il colore abbiamo l'interruttore d'accensione il comando punto linea la barra che può leggere sia il canale destro che il canale sinistro questa è la velocità di lettura più o meno lenta più o meno veloce queste sono le attenuazioni per quanto riguarda gli ingressi questa è la sensibilità dell'ingresso e questa l'attenuazione per quanto riguarda la gamma bassa dai 40 ai 400 earth fine si può abbassare per per apprezzare meglio tutta l'andamento della lettura questo analizzatore lo potete sempre trovare sul mio sito lo vendo sia montato completo così di mobile oppure le schede montate senza mobile poi uno lo alloggia nel mobile che preferisce oppure anche le schede da montare con gli schemi per farlo proprio da zero bene questo è tutto un saluto dai vansat channel a tutti ah 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 Grazie a tutti.